Ben ritrovati e ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo video. Amici e amici, provengo da una notte di fuoco, non pensate male, messa così effettivamente può essere una frase anche ambigua, bensì ho fatto l'asta al Fanta, uno dei pochi Fanta, Fanta Calcio, che faccio in questa stagione, perché mi condiziona davvero l'umore, il Fanta Calcio, quindi ho ridotto al minimo quelli che faccio, quegli amici più stretti e niente. Poi magari nei prossimi giorni facciamo un video su questo e faccio vedere la formazione, la squadra che ho buttato giù e quindi una nottata molto ma molto ma molto lunga e complicata in termini di proprio definizione del team. 31 agosto, siamo davvero all'ultimissima curva di questo mercato, in avvio avete visto gli arrivi di Comenencia e di Salifu, i nuovi rinforzi per la Next Gen, poi vedremo, magari questi ragazzi saranno talmente bravi che riusciranno ad affacciarsi in prima squadra, è anche l'auspicio che abbiamo tutti perché quando non si ha moneta sonante o quando proprio il portafoglio è vuoto per fare il mercato in entrata e per quanto riguarda la prima squadra molto passa anche dalle speranze legate al settore giovanile e in questa sorta di cuscinetto che è la Next Gen che permette ai più giovani di iniziare a fare esperienza vera nel calcio vero e più talentuosi come abbiamo visto soprattutto nella passata stagione, poi hanno la possibilità di allenarsi alla continassa sotto lo sguardo attento di Max Allegri e all'occorrenza anche di ottenere minutaggio. Quindi comunque a livello di settore giovanile, di Next Gen, di scouting, la Juventus ha portato avanti la sua programmazione anche per quanto riguarda la sessione estiva 2023, per quanto invece riguarda il mercato dei grandi in entrata e ormai ripetiamo le stesse cose da settimane, cose che poi puntualmente non si verificano perché abbiamo parlato di incastri, abbiamo sempre detto se ci dovessero essere alcuni incastri magari la Juve potrebbe cogliere qualche opportunità, opportunità non effettuare investimenti roboanti attenzione le parole sono importanti. Evidentemente ciò non è accaduto e io credo che poi alla fine della fiera, ormai ci possiamo sbilanciare al 31 agosto la notizia più importante sia aver trattenuto tutti i big e non era scontato non era scontato nella maniera più assoluta che Gleison Bremer rimanesse a Torino non era scontato nella maniera più assoluta che rimanesse Chiesa non era assolutissimamente scontato, vedi anche l'intreccio che c'è stato poi con Romelu Lukaku in generale il dialogo col Chelsea, che rimanesse Duzio Vlaovic lo so già che poi l'obiezione di qualcuno sarà ma Bremer non è un big perché questa cosa qua me la state scrivendo in tanti nei commenti e io ne parlavo proprio ieri su Juventibus in compagnia con Massimo Zampini direttore Sarica, Pavanello, tra gli altri discutevamo di questo fatto io sono rimasto profondamente deluso dalle prime due partite stagionali di Bremer attenzione, non ho il paraocchi, anche io guardo le partite e mi faccio un'opinione per me Bremer non era stato neanche così pimpante a Udine dove a livello collettivo c'era stata una performance interessante ed è stato insomma il più disastroso a livello difensivo, anche più di Alessandro contro il Bologna però quantomeno lo status dell'investimento da oltre 50 milioni ci deve portare a dire che Bremer deve rappresentare la base del discorso difensivo e da qui non si scappa poi che renda meglio a tre, che a quattro, che sul centro-sinistra, sul centro-destra ma sono tutti i discorsi che lascio il tempo che trovano Bremer deve rendere per quello che è stato pagato Bremer deve essere colui che deve supportare da quasi da solo il pacchetto retrato questo è e quindi quando noi parliamo di Bremer, di Chiesa e di Vlaovic parliamo dei pezzi pregiati di questa Juventus poi De Gussibus, c'è qualcuno che magari crede che uno sia più rappresentativo di un altro ma in generale, come ho detto prima, non era scontato che approcciando alla sessione corrente poi tutti e tre rimanessero a Torino quindi io da questo punto di vista credo che questa sia l'unica nota positiva, nota lieta di questa sessione all'interno di un meccanismo molto chiaro non c'era un soldo, non c'era un centesimo ci sarebbe potuto accogliere qualche occasione e spendere qualcosina solamente se fossero arrivate offerte convincenti per o Bremer o Chiesa o Vlaovic qualche suggestione qua e là c'è stata non mi risultano che siano mai arrivate offerte reali, concrete per Bremer Lastonville è stato il club che si è mosso maggiormente su Federico Chiesa mentre per Vlaovic vale il discorso che abbiamo sempre fatto c'è stata quella telefonata proprio in inizio mercato tra Juve e Bayern ma la valutazione della Juventus non combaciava con quella del Bayern quindi non è neanche arrivata una proposta perché è stato un ragionamento poi c'è stato qualcosina con il Paris ma mai offerte ufficiali dialoghi attorno al 12-13 luglio tra club ma non offerte ufficiali tant'è che poi il Paris ha virato su un altro obiettivo e poi c'è stata sì la trattativa di 2-3 settimane con il Chelsea ma anche qua la Juventus ha sempre chiesto 40 milioni più o meno il proprio favore più il cartellino di Lukaku e il Chelsea non ha ritenuto che questa cifra dovesse essere investita poi sappiamo che Lukaku è stato prestato con un grande sconto alla Roma in prestito quindi questo è questo è e secondo me quando analizziamo il mercato della Juve questo punto qua dei big che sono rimasti a Torino dobbiamo tenerlo dobbiamo tenerlo lì e dobbiamo rifletterci poi è evidente io sono il primo a dire che mai avrei pensato che la Juventus facesse registrare principalmente un movimento perché Facundo non lo cito essendo che si è andato in prestito subito alla Sampdoria magari mi aspettavo qualcosina a centrocampo sì credo che poi nelle intenzioni della Juventus ci fosse l'idea o il desiderio di fare qualcosa da qui gli accostamenti con Partey Mininko e Cestavic che sì Amrabat evidentemente se ci sono più nomi perché ci sono più idee e c'è l'intenzione quantomeno in fase embrionale di andare di andare a prendere un calciatore con determinate caratteristiche cioè non è accaduto anche perché la Juventus non ha vittuto McKennie offerte serie anche qua zero la Juventus ha deciso alla fine della fiera di tenersi sia a Miretti che Nicolussi Caviglia quindi i centrocampi si sono tanti anche se McKennie possiamo anche considerarlo probabilmente un'alternativa all'occorrenza adattata a UEA ero anche convinto quando si parla di Berardi che comunque la Juventus cercasse un giocatore all'occorrenza vuoi non per cambiare il sistema di gioco ma per dare delle soluzioni in più l'SS che magari sulla carta ti proponeva magari anche il Di Maria sebbene sappiamo tutti che il Fidel non sia riuscito poi a mantenere determinate aspettative quindi questo è questo è quando mi si chiede un giudizio sul mercato neanche penso che lo farò perché se c'è un mercato lo analizziamo se non c'è un mercato di cosa parliamo a fare ma aver trattenuto Bremer Chiesa e Vlaovic non era qualcosa di scontato poi che questo debba rappresentare proprio un pensiero diciamo base base perché se la Juve e i tuoi big devi trattenere ok ci può stare tutto ma dobbiamo considerare periodi e periodi in questo con l'impatto della mancata Champions comunque la Juve si è ritrovata a dover fare determinati conti qua torniamo al famoso discorso che vi facevo a maggio di 110-120 milioni di ossigeno da trovare tra cassa e in generale tali da effettuare non so onestamente a quanto sia arrivata ancora la Juventus qualcuno dice 75-80 milioni non lo so non è la mia materia io vi dico quello che avevo sentito da esperti che operano nel mondo Juve su questo punto puoi analizzarlo e roba davvero da gente che con i numeri ci sa fare insomma in avvio le visite americhe di Salifu e di Comenensia e per questo credo che dovremo accontentarci volti d'entrata poca roba poca roba da qui al Gong che ormai è l'ultima curva